Ciao a tutti ragazzi, oggi un nuovo video, eccoli qui, un video haul naturalmente di cosine di cartoleria, di cancelleria, sono delle cosine molto molto carine prese da Isabella che le mando un bacio e la sua paginetta Facebook si chiama Kawaii Cutbox Italia, si così si chiama, Kawaii Cutbox Italia e quindi ho preferito prendere delle box, Leo mi fa preparare delle box e le vende sulla sua paginetta e quindi io ne ho prese due, una da 20 euro e una da 10 euro, quindi se volete andate sulla sua paginetta Facebook e prendete queste box allora la prima box da 20 euro c'era, stava tutta in questa bustina che adoro, è bellissima di vedere la prima, e poi c'erano delle cosine, eccole qui, vi faccio vedere subito allora come prima cosa vi faccio vedere questo squishy, squishy squishy a forma di pandino, molto molto carino, vi faccio vedere e poi c'era questo, è un libricino con questo pulcino, molto molto carino, fatto a righe, così, molto molto bello poi c'era questi, che sono dei post-it di Parigi, vedete che carini, molto molto belli, adoro Parigi e adoro questi post-it così poi c'erano questi, che io adoro anche, sono dei post-it con questa bambina, scusate per la luce, vedete, sono molto molto belli questi poi ci sono degli adesivi di Rilakkuma, poi ci sono altri adesivi, questi qui del gattino e questi di Molang, che io adoro Molang poi questo astuccino, guardate che bello, bellissimo questo astuccino di Totoro, è veramente un amore, molto molto bello guardate, vedete carino, fatto così, dietro è tutto fatto di retina, molto molto bello e poi, quante volte avrò detto molto molto bello, vabbè, lo dirò sempre in questo video però, non vi preoccupate poi questa penna, vedete, molto celeste a qua, con questa penna, con questa punta molto sottile quest'altra, sembra con una punta molto sottile, ed è fatta così, con questa bambina guardate che carina e poi c'è questa, tadaaa, bellissima, che io adoro infatti quando l'ho vista, stavo per morire perché è una penna molto molto bella vedete, sembra un grissino con il cioccolato, così e anche questa penso che sia nera sì, è nera veramente stupenda questa penna, molto molto bella e questa è stata tutta la box da 20 euro quindi è tutta la box da 20 euro con tutte queste belle cosine che io ringrazio della scelta poi, l'altra box era da 10 euro ho dovuto prendere un'altra box da 10 euro e c'era tutta in questa bustina molto molto bella così con il deco tape, guardate che tra l'altro ce l'ho e ve l'ho fatto anche vedere nell'altro nell'altro haul di Isabella perché l'ho preso nelle cosine che ha messo in vendita e mi ha messo un deco tape questo qui di questi animaletti tipo Molang questo che penso sia un segnalibro non so cosa è me cotto poi questi post-it di questo maialino queste card questa è una card di My Melody e una card di Hello Kitty molto molto belle queste poi questi che io adoro me ne ho messi ben tre sono stupendi questi guardate con rilakkuma vedete che belli sono bellissimi sono troppo belli questi piccolini poi questo che è un cupcake post-it-up cupcake with waiting marker e poi per finire mi ha messo questa collana molto molto simpatica ed è fatta così vi faccio vedere vedete è una collana con questo omino tipo non so come come lo posso definire tutto così che si muove molto molto carina come come collanina e quindi questo è tutto il mio bottino da Isabella quindi ho preso due box una da 20 e una da 10 e questa era quella da 10 anche così è molto carina è molto spiziosa e soprattutto di cartoleria che io amo quindi io adesso vi saluto bacio volante per tutti voi e al prossimo video ciao ciao ciao